Benvenuti a questa nuova presentazione di Limes. Oggi parleremo dell'ultimo numero che è appena uscito, la rete a stelle e strisce. Un tentativo di inquadrare e leggere l'impero americano attraverso la dimensione cosiddetta virtuale. Dico cosiddetta perché, come vedremo e come vi spiegheranno i due amici e colleghi qui a destra e sinistra, in realtà c'è molto di materiale anche nel virtuale come in realtà poi c'è anche molto di virtuale nel materiale. In sostanza questo volume che è stato curato e concepito in particolare da Dario che ci intratterrà soprattutto su questo tema immagino vuole mostrare come la rete non sia questa dimensione universalistica che i suoi attori privati, i suoi colossi più che famosi come Google, come Amazon, come Facebook e come Apple, chi più chi meno cercano di sostenere, ma sia anche e soprattutto uno strumento della potenza americana, dello Stato americano. D'altronde questo è fin dalle origini internet, concepito e costruito e sviluppato nei laboratori del Pentagono come un progetto militare che poi ha avuto una sua dimensione civile, oggi assolutamente fondamentale. Ma allo stesso tempo mantenendo il cordone umbilicale con la sua, chiamiamola madre, o forse dovremmo dire padre, e cioè, per esempio, offrendo, garantendo all'intelligence americana l'accesso a una enorme quantità di dati sensibili fondamentali per la conoscenza della situazione strategica nel pianeta, e naturalmente un enorme vantaggio per conseguenza per gli Stati Uniti d'America, con un caveat che in uno dei suoi due articoli Dario sottolinea, anche citando una frase di Peter Thiel, e cioè che i dati di per sé sono stupidi, vanno interpretati. Anzi, aggiungerei, una eccessiva quantità di informazioni può addirittura essere controproducente perché impedisce o rende più difficile la gerarchizzazione, quindi la interpretazione dei dati, che poi è l'unico modo per renderli utili, operativi, strumentali. Quindi attraverso questa lettura strategica, geopolitica della rete e delle sue dimensioni, cerchiamo di capire anche come funziona la potenza americana e come funzionano le altre grandi potenze che nel pianeta cercano di competere con gli Stati Uniti e che, come nel caso della Cina, pensano addirittura di qui a qualche decennio di subentrare all'America come principale potenza planetaria, il che implica evidentemente un dominio, o quantomeno un condominio, della dimensione virtuale della rete e quindi una rottura dell'attuale monopolio o semi-monopolio americano. Sotto questo profilo ci sono analisi che riguardano la crescita di questi colossi cinesi che ancora non hanno dimensioni e capacità apprezzabili rispetto ai competitori americani, ma che si propongono obiettivi molto ambiziosi e sono a loro volta più che sostenuti dallo Stato di riferimento da Xi Jinping. Noi europei siamo un po' vaso di coccio, nel senso che abbiamo un approccio regolatorio difensivo, come illustra Francesco Vitali Gentilini in un suo articolo, rispetto a quelli che sono i colossi americani e alla loro capacità di interferire anche nella raccolta di informazioni che riguardano ciascuno di noi. e l'approccio regolatorio tipicamente europeo, cioè in assenza di potenza ci si rifugia nelle regole, pensando che le regole siano più importanti della loro applicazione o della capacità di circonvenirle, è evidentemente un approccio debole e incapace di contenere la strapotenza dei colossi americani, i quali a loro volta evidentemente con lo Stato di origine, con gli Stati Uniti, stabiliscono un rapporto dialettico, perché una potenza di fuoco e soprattutto una potenza di liquidità come la loro, evidentemente qualche tentazione se la fa avvenire, compresa quella di aprirsi ai vincoli della Cina o di altre potenze avverse agli Stati Uniti, nel caso lo ritenessero utile. E qui si apre evidentemente una partita intraamericana che per ora è ben governata da Washington. Nicolò Locatelli, qui alla mia sinistra, ha studiato il caso delle cosiddette fake news, a casa mia si chiamavano bugie, ormai le chiamiamo così, e quindi anche delle interferenze che, per esempio, nelle campagne elettorali o comunque nella comunicazione, nella propaganda, possono essere moltiplicate grazie alla rete, e poi hanno anche il vantaggio di non essere perfettamente dimostrabili. E poi c'è una terza parte che riguarda la cosiddetta ciberguerra, cyberwarfare, di cui molto si parla e poco si sa. Diciamo che in genere c'è un rapporto inversamente proporzionale fra ciò che si conosce e ciò di cui si discute. In questo caso la regola è confermata. Sappiamo con una certa ragionevole approssimazione che, a differenza delle altre grandi dimensioni della competizione geopolitica, quella marittima, quella terrestre, quella spaziale, quella aerea, questa quinta dimensione, oppure sesta se ne consideriamo altre, è una dimensione in cui gli americani non sono, almeno apparentemente, il numero uno. E' in cui le due principali potenze rivali nell'ordine Cina e Federazione Russa hanno sviluppato capacità più che notevoli. Secondo uno dei nostri autori, che azzarda una gerarchia nel campo cibernetico, inteso in senso bellico, ovviamente, esiste un primo livello di potenza in cui i tre paesi, Stati Uniti, Cina e Russia, sono grossomodo allineati. La notizia per noi italiani è che siamo al quarto livello, il che già non è poco, essendo poi la fonte di questa classificazione non italiana. Questo approccio, evidentemente, come talvolta capita all'IMES, vuole essere un'apertura di gioco che dovremmo sviluppare anche in successivi numeri di l'IMES. Per esempio, l'articolo che ha scritto Dario a proposito della geopolitica umana e quindi del rapporto fra i dati e di noi che li interpretiamo e li usiamo sicuramente apre una pista in questo senso che cercheremo di seguire. Ma, insomma, la dimensione di Internet è talmente pervasiva, ogni presente e fosse anche eccessivamente presente nel dialogo fra noi e anche nella competizione strategica, che non potevamo non dedicargli un numero. 20 anni dopo è il primo numero che dedicammo a questo tema, i signori della rete, 1998. Quindi, forse, entro i prossimi 20 anni, quando io non ci sarò più, ma ci saranno altri, avremo un altro numero, non ho scherzo, lo avremo molto prima. Adesso darei, senz'altro, se siete d'accordo, la parola prima a Dario e poi a Niccolò. Che cosa ci può dire la rete delle dinamiche egemoniche a livello planetario? La prima grandezza che balza gli occhi, perché ha un po' di dimestichezza con l'impero americano, perché comunque si parte da quello che è nettamente il numero uno, è la corrispondenza tra le caratteristiche solide. Lucio Caracciolo raccontava annunciandolo alla materialità della rete. Dicevo, le corrispondenze materiali tra l'impero americano in quanto tale e la sua declinazione cibernetica. Cosa vuol dire? Vediamo, ci dovrebbe essere la carta proprio dell'impero americano, nella sua forma, vediamo se riesco a trovarla, eccola qui. Nella sua forma, diciamo, più solida possibile, e anche più umida possibile, l'impero americano è questo qui, questo che vediamo, cioè che cosa? Gli Stati Uniti sono una talassocrazia, ciò che noi chiamiamo globalizzazione, che vedete raffigurata qui, non è altro che il controllo dei mari e degli oceani da parte degli americani. Globalizzazione è sinonimo di impero globale americano, di superpotenza globale, chiamatela come vogliamo. Qualcuno lo chiama specialmente globalizzazione, lo scambia per un fenomeno economico, si interroga su quando finirà, perché finirà, eccetera, la globalizzazione finirà quando questa carta non avrà più valore, soltanto in quel caso. Questa carta, vedete, mostra queste linee blu, che vedete sono le rotte marittime, su cui viaggia il 90% delle merci globali, tutte controllate dalla marina americana, attraverso i passaggi, gli ismi, gli stretti, che sono i colli di bottiglia dove bisogna passare per forza, che poi consente agli Stati Uniti di aver creato un solo mercato globale e di mantenerlo tale, e finirà quando non avranno più la capacità, la forza o la voglia di difendere queste rotte marittime, i passaggi che controllano ovunque nel pianeta, anche nel nostro Mediterraneo, attraverso la loro marina e le flotte, queste sono, come vedete, quarta, sesta, eccetera, sono le flotte degli Stati Uniti con le loro aree di competenza. Come si intreccia questo con Internet? Nella sua dimensione di telaio, se questo è il telaio della globalizzazione, lo stesso si può dire di Internet quando pensiamo ai cavi che consentono la connessione ai miliardi di cittadini del pianeta che si connettono ogni giorno ad Internet, si tratta di cavi estremamente solidi e materiali, in fibra ottica, presenti sui fondali dei mari e degli oceani, di oltre un milione di chilometri di cavi, che consentono per l'appunto la connessione non soltanto a tutti coloro che hanno accesso ad Internet, ma che pongono anche questi al centro del sistema agli Stati Uniti. Cioè nella loro maggioranza, nella loro gran parte, questi cavi sono stati progettati, realizzati e posti sui fondali dei mari e degli oceani dagli americani, hanno gli Stati Uniti come centro di radiazione e sono controllati e difesi, i microfoni ce l'hanno con me, sono controllati e difesi proprio dagli americani. Peraltro siamo soltanto oltre il 50% secondo le statistiche di proprietà statunitense, sia privata che pubblica i cavi sotto Maria Nintendo, si tratta tra l'altro di cavi che non iniziano con Internet, alcuni hanno origine nell'Ottocento, sono cavi del telegrafo, poi trasformati in telefono e poi appunto in fibra ottica per consentire l'accesso ad Internet, ma sebbene soltanto o poco più della metà siano americani di origine e di installazione, gli Stati Uniti li considerano tutti nella loro disponibilità, cioè si fanno garanti, agli occhi di quella che fingiamo di chiamare opinione pubblica internazionale, ma comunque a chi vuole intendere, garanti del mantenimento, della custodia e dell'intoccabilità di questi cavi, perché se fossero tranciati anche in una loro parte, farebbero sprofondare il mondo nel buio virtuale. Quindi quando ci immaginiamo una dimensione non soltanto immateriale di Internet ci viene da ridere, addirittura si capisce bene perché quando si chiacchiera di deposito, di memoria, si chiama cloud, come se stesse veramente in cielo, in realtà è dentro un magazzino, spesso in California, che ci consente l'accesso attraverso cavi che si trovano sui fondali dei mari e degli oceani, però l'hanno chiamato cloud, e questo ci porta già immediatamente verso la parte di propaganda che inevitabilmente c'è all'interno di Internet, che già di per sé è intrinseco e rappresenta la dimensione parallela, il suo doppio parallelo e strategico dell'impero americano, pari pari. Se noi guardiamo a questa carta, dicevamo della Cina, che è l'antagonista per eccellenza degli Stati Uniti, che esporta tra il 30 e il 40% del suo PIL, il cui 90% viaggia via mare, quindi sono rotto e controllato dal suo principale nemico, questa è la posizione di tremenda debolezza che affligge la Cina, e la Cina come vedete è rosso perché si vuol sentire immune dall'impero americano, non lo è, ma si vuol sentire tale, su Internet possiamo discutere della stessa questione, della stessa grandezza, cioè la Cina prova a vietare l'accesso alle grandi multinazionali, ai giganti dell'high tech statunitense, ci riesce, fino ad un certo punto, ha creato proprio omologhi, cioè social network, social media, motori di ricerca locali, che consentono parzialmente alla Cina di schermarsi dall'impero cibernetico americano, e qui entriamo nell'altro tema, l'altro grande tema del numero, ovvero come si consolida poi l'egemonia americana su Internet, a che cosa serva agli Stati Uniti. Parzialmente lo ha già spiegato Lucio Caracciolo prima di me, al centro del discorso ci sono i dati, evidentemente. Tutti i principali motori di ricerca, per dire un'ovvietà, i social media, i social network, intendo a livello planetario, sono americani, se noi andiamo a vedere i dati di mercato, il 98% delle ricerche su motori specifici che avvengono su Internet ogni giorno, da parte di miliardi di persone, avvengono per il 90% su motori di ricerca statunitense, anzi soltanto su tre, che sono poi Google, Bing e Yahoo, che sono tutti e tre americani, non solo, ma hanno tutti e tre sede nella costa pacifica degli Stati Uniti, tra la California e lo Stato di Washington, i cui server sono esclusivamente lì. Lo stesso modo, se noi vediamo i dati di diffusione planetaria dei social network, il 96% delle persone che hanno un profilo, hanno una vita sociale a livello di Internet su qualsiasi social network, lo fanno attraverso una piattaforma statunitense, a partire da Facebook, a 2 miliardi e 300 milioni, di utenti, scendendo attraverso gli altri social network statunitensi, così il discorso è lo stesso, le grandezze sono pressoché identiche per la messaggistica istantanea, quindi Whatsapp che è di proprietà di Facebook, piuttosto che altri social network come Instagram, altrettanto di proprietà di Facebook e così via. Dunque, se queste sono le fette di mercato, cioè il 96-98%, vedete che il tentativo cinese di resistere è quasi autarchico, riguarda esclusivamente il territorio cinese, esattamente come questa carta. Cioè la carta solida dell'impero americano, che noi chiamiamo globalizzazione, e quella cibernetica hanno di fatto la stessa grandezza. La Cina prova a schermarsene, ma non può, e riesce soltanto a controllare il suo territorio, ma non ancora, forse non lo farà mai, decidete voi, a proporsi come reale antagonista, in questo caso, al caso specifico, a controllare i mari su cui viaggiano le sue merci, ciò che ne determina l'esistenza o la morte, cioè parliamo di questo tipo di importanza, a livello cibernetico di estendere le proprie piattaforme digitali e di internet agli altri paesi. Perché questo è importante? Per due ragioni, e questa è la dimensione, entriamo direttamente nella dimensione dei dati. Che cosa ci fanno gli americani con internet? Che cosa ci fanno con i dati? I dati servono, quelli raccolti attraverso i social network, i motori di ricerca, la messaggistica istantanea, cioè tutto ciò che noi, tutti quanti noi, spontaneamente, tutti i giorni, consegniamo alle aziende statunitensi, in maniera molto ingenua, quasi credendo di parlare con i nostri amici e basta, o con un microprocessore e così via, sono sì raccolte nei server delle società specifiche, ma poi, come la storia ci ha insegnato, ma non ci voleva un genio, non è fatto il segreto di Pulcinella, le agenzie di intelligence statunitensi, su tutte le NSA e poi la CIA, possono prelevare dai server al loro esclusivo, al loro esclusivo arbitrio, per loro esclusiva decisione, tutti i dati che credono sensibili per la loro attività. Quindi hanno accesso a miliardi e miliardi innumerevoli di dati, di miliardi di persone in giro per il pianeta che raccontano di sé direttamente all'agenzia di intelligence statunitensi. Lo spionaggio che è sempre stato un'attività fondamentale di qualsiasi stato, in maniera embrionale si spiavano i cittadini dello stesso stato, poi ci si concentrava, soprattutto in fase esterna di proiezione estera, sui vertici degli altri paesi, quindi che cosa pensano i cosiddetti decisori politici piuttosto che i militari, gli scienziati più capaci, fate voi, chiunque possa avere una voce in capitolo sulla traiettoria di uno specifico paese, è sempre stata non solo caratteristica ed esercizio fondamentale di ogni stato, ma anche un'attività molto rischiosa e dispendiosa, per dire un'ovvietà, non solo perché costa molti soldi, perché si rischia di essere beccati e spesso ci si muore. Il passaggio che consente la rete agli Stati Uniti è di trasmettere, di trasportare lo spionaggio dal vertice alla base, quindi non si spiano più, non soltanto perlomeno, ma è molto meno importante spiare i leader, cioè sapere che cosa si mangia una cena, che amante hanno, chi li può ricattare, come guardano il mondo, tranne alcuni casi specifici, soprattutto per quanto riguarda le autocrazie, ma ancora più importante è l'accesso alla base, cioè ai cittadini dei singoli stati, delle singole nazioni, che spontaneamente, bypassando, i loro stessi governanti comunicano, cioè noi, noi anche, direttamente agli americani che cosa pensano, cosa hanno mangiato a cena, di chi si sono innamorati, eccetera, perché questo è importante, non perché gli americani siano, forse lo sono anche, dei grandi guaiermani, come l'ho ogni essere umano, fino ad un certo punto, perlomeno, ma perché sommandoli questi dati, quando riguardano una collettività, dovrebbero riuscire, usiamo il condizionale, a segnalare le tendenze, non del pianeta, che non esiste, ma delle singole nazioni, dei singoli imperi, dei singoli stati, intesi come collettività, quindi per essere ancora più chiari, capire che cosa fa arrabbiare una collettività, con chi ce l'ha, verso chi invece è maggiormente simpatetica, che tipo di approccio al mondo ha, siamo ancora più chiari, sarebbe pronta a fare la guerra, non sarebbe pronta, è favorevole ad aumentare la popolazione attraverso la fertilità, attraverso un inserimento ulteriore delle nascite, un'accettazione del ruolo della donna, soprattutto come procreatrice, oppure di che cosa vive una nazione, soprattutto di obiettivi economici, di individualità, quindi crede essenzialmente al minimalismo della carriera personale, oppure prendiamo il caso della Russia, per fare un esempio, anche degli stessi Stati Uniti, crede che il bene della collettività sia superiore, bisogna anche sacrificare se stessi per questa ragione, anche vivendo molto male e soffrendo. Tutto questo serve a che cosa leggemo? A capire chi la potrà sfidare, di chi si possono fidare o meno, chi è pronto a morire per ciò a cui crede, cioè a fare la guerra per intenderci, per ciò a cui crede. Mettendo insieme i dati c'è la presunzione, forse l'illusione, fate voi, di interpretarli in questa maniera e capire a che cosa servono. Nel saggio che Lucio Caraccio lo citava, quello che ho scritto sulla geopolitica umana, non ne discuteremo oggi perché ci porterebbe troppo in là con i tempi, in realtà prova a raccontare come la mole di dati, se non interpretate in maniera consapevole attraverso le caratteristiche e le grandezze della geopolitica umana, può essere anche inutile perché ancora oggi anche gli analisti statunitensi, questo forse fortunatamente per noi potremmo dire, tendono a valutare i dati attraverso le categorie dell'economia, della politologia, quasi fossero sondaggisti, economisti, quindi tutte discipline ancillari poi alla strategia che di per sé non hanno valore da sole se non applicata attraverso la geopolitica, per cui si concentrano ad esempio sulle intenzioni di voto, quando semplicemente stabilire per chi voterà anche in anticipo rispetto alle elezioni, questo riescono a farlo, capire per chi voterà in anticipo una popolazione si può stabilire attraverso i dati e i metadati che ci consegnano i dati, ma non basta poi a cambiare la strategia e soprattutto la traiettoria di una nazione se non si modificano le sue caratteristiche antropologiche, cioè prendiamo il caso dell'Italia, è cambiata la classe dirigente, gli americani si sono concentrati già da dieci anni nei suoi 5 stelle, lo ha rivelato Wikileaks, per cui gli americani già da più di dieci anni fa, peraltro parliamo di un fenomeno nato sulla rete come i 5 stelle, hanno cercato di capire cosa volessero, ne hanno intuito l'ascesa prima ancora che fosse reale, visibile ad occhio nudo, anche all'opinione pubblica, per poi scoprire che non è cambiato niente, cioè non è che l'Italia attraverso il cambio di regime nel senso letterale del termine, cioè con una nuova classe dirigente ha cambiato strategia, ha abbandonato la sfera di influenza americana, si trova da un'altra parte, non può farlo, perché le condizioni antropologiche sono rimaste identiche, nessuno oggi è pronto a fare la guerra in Italia chissà per quale ragione o chissà per quale motivo, chissà per quale obiettivo, così la popolazione è rimasta molto anziana di età, ma ci porterebbe appunto lontano il discorso, il paese è sempre lo stesso, indipendentemente che sia cambiata la classe dirigente, ecco, concentrarsi sugli aspetti antropologici è ciò che noi invitiamo a fare, si andrà di leggerlo in questo numero, perché poi l'importanza dei dati deve essere incrociata con dimensioni più importanti di queste. L'altro elemento di cui ci occupiamo, ed è l'ultimo che tocco prima di chiudere il mio intervento, riguarda la capacità o meno, anche di questo ha accennato Lucio Caracciolo, per le grandi multinazionali high tech degli Stati Uniti di rimanere all'interno della strategia americana, perché parliamo di soggetti che hanno straordinaria liquidità, per dire un'ovvietà, che hanno accesso loro in primis a una mole così straordinaria di dati, cioè all'intimità di miliardi di persone, che quindi potrebbero avere la tentazione di sentirsi onnipotenti o perlomeno slegati, nel senso quasi latino del termine, dall'impero cui appartengono, cioè alla loro nazione, agli Stati Uniti. Perché questo non avviene? Perché una delle grandi sciocchezze che gli stessi americani distillano è che le multinazionali oggi sono più importanti degli Stati. Gli italiani ci hanno creduto subito, questo lo insegnano alle università, è diventato proprio un mantra di cui gli americani ridono molto perché se la sono inventata loro questa sciocchezza che può essere anche vera in alcuni paesi dove gli interessi strategici come il nostro, ad esempio, spesso sono sottoposti a quelli economici, non è che abbiamo obiettivi massimalistici di per sé, ma che è proprio impossibile negli Stati Uniti. Cioè nel primo paese del mondo che vuole mantenersi egemone globale è un po' difficile che le multinazionali per usare un eufemismo possano fare di testa loro anche se a volte ci provano. Il rapporto dialettico a cui faceva riferimento Lucio Caracciolo è esistente. Stiamo parlando ovviamente di Amazon, Facebook, Google, Apple, o Apple come hanno deciso gli italiani di pronunciarlo, Microsoft, eccetera, che noi interpretiamo come quasi appunto patrimonio dell'umanità o comunque abitanti di una dimensione parallela non americani in quanto tale. Noi proviamo a spiegare il numero non solo perché sono profondamente americani e americani e basta, ma perché sono profondamente intrinseci alla strategia statunitense. Per tre ragioni, le vado ad elencare e poi chiudo il mio intervento. La prima perché utilizzano una tecnologia che non è la loro. Alto grande mito che riguarda la Silicon Valley, prima avevo fatto vedere la bellissima carta di Laura Canali. La Silicon Valley voglio farvi vedere ancora perché vale certamente la pena. All'altro lato mi dice Nick. Vai Nick, mettila tu che l'hai preparata tu. In questa carta vediamo dove hanno sede di fatto in California nella Baia di San Francisco le principali multinazionali dell'high tech. Perché dicevo utilizzano una tecnologia che non è la loro? Perché noi abbiamo l'idea questo è l'altro grande mito che li riguarda che stiamo parlando di grandi inventori Steve Jobs forse addirittura anche Zuckerberg che è percepito come un inventore non so se addirittura siamo così audaci però insomma la sensazione c'è di stare per carità parliamo di geni su questo non c'è dubbio ma non inventori tutte le tecnologie di cui dispone che utilizza la Silicon Valley dunque l'internet americano sono state tutte create al pentagono tutte quante nessuna esclusa internet nasce nel 69 nel pentagono non solo nasce nel 69 il dipartimento della difesa come arcinoto come sistema di comunicazione interna ciò che è ancora più importante è che gli americani lo tengono per sé fino al 1991 cioè se lo tengono in seno per oltre 20 anni cioè aspettano che l'unione sovietica imploda per renderlo globale cioè quando il mondo diventa il loro quando possono avere l'egemonia globale diffondono internet e che hanno anche se l'invenzione di un britannico è il world wide web cioè il largo mondo della rete se lo inventano quando non c'è più l'unione sovietica era più di 20 anni che avevano creato internet e noi non lo sapevamo non solo il microprocessore che ha la base di ogni computer e di ogni smartphone ancora oggi e mica l'hanno inventato Apple o chi per loro l'ha inventato sempre il pentagono per telecomandare essenzialmente missili piuttosto che sottomarini eccetera il telefono cellulare stesso è stato creato al pentagono viene utilizzato per la prima volta dal generale Schwarzkopf durante la prima guerra del golfo chiama dal Kuwait il pentagono attraverso il primo cellulare Siri per chi ha un iPhone o iPhone come si dovrebbe dire insomma per chi ce l'ha sa di cosa sto parlando se l'è inventato sempre il pentagono quindi parliamo di multinazionali che prendono la tecnologia militare la riadattano al civile ma ovviamente restano subordinate nei confronti del militare perché la tecnologia non era loro non perché qualcuno ormai gliela possa togliere perché sono consapevoli che qualcuno finanziato dal pentagono il pentagono ha finanziato non solo ma anche la CIA in parte anche la nascita di Facebook piuttosto di Microsoft eccetera che qualcuno ripeto finanziato dalla difesa americana possa un giorno inventare la nuova frontiera tecnologica che poi spinga fuori dal mercato queste grandi aziende che la tecnologia non ce l'hanno non la possiedono non l'hanno creata a noi ci sembrano straordinariamente capaci ma vivono di questa deficienza di questo iato quindi sono subordinate al potere politico e militare statunitense anzitutto per questo la seconda ragione è perché sono antropologicamente molto americani cioè appartengono al primo ceppo etnico della nazione non sono soltanto americani quindi noi ce li possiamo immaginare non lo so una specie di calidoscopio multiculturale il multiculturalismo nemmeno esiste negli Stati Uniti però a chi piace ci si può credere sono quasi tutti o perlomeno in larga parte nei loro vertici di estrazione germanico tedesca cioè appartengono al ceppo dominante degli Stati Uniti lo stesso di Trump per capirci troverete nel numero se fate un giro semplicissimo dei cognomi di chi costituisce il management di Google piuttosto che di Facebook e così via sono tutti tedeschi non solo tutti bianchi e maschi tranne alcune eccezioni sono tutti tedeschi Zuckerberg vuol dire montagna di zucchero in tedesco Peter Thiel il primo finanziatore di Facebook all'epoca della sua nascita amministratore delegato di Palantir inventore dei Paypal è nato a Francoforte sul meno potremmo cottimare Eric Schmidt l'ex amministratore delegato di Alphabet dunque di Google si chiama Schmidt di cognome cioè il più celebre cognome tedesco lo stesso Jobs nel suo cognome originale si chiama Gindali Schible Jobs non è il suo vero cognome Bezos di Amazon non è il suo vero cognome si chiama Jorgensen potremmo andare all'infinito cioè quindi sono intrinseci alla superpotenza americana perché appartengono al ceppo dominante del paese proprio per parentela vogliamo dire per sangue se non ci facesse troppa impressione la terza ragione concludo per cui sono sottoposti alla volontà strategica degli statuti anche se provano a fare degli scatti avanti soprattutto come diceva Lucio Caraccio riferimento alla Cina oggi il grande dibattito è quello sono sottoposti alla volontà americana perché sono consapevoli che il congresso statunitense che nettamente l'istituzione più importante del paese non è certo la casa bianca potrebbe disintegrarle soltanto se volesse da un giorno all'altro attraverso l'approvazione di due leggi non ce ne vorrebbero cento una di matrice di antitrust ed una stringente sulla privacy che di fatto spingerebbero fuori dal mercato tutte queste aziende non completamente perché consapevoli di questo stanno diversificando tremendamente il loro business ma il loro quello che si dice è un termine orrendo in inglese lo core business cioè l'affare principale ciò di cui si occupano nel nocciolo è ciò che attraverso queste due leggi potrebbe letteralmente scomparire però è già successo perché sì gli americani a volte sono resti ad immaginare una regolamentazione eccessiva del loro sistema ma alla fine dell'ottocento attraverso lo Sherman Act misero fine il Parlamento mise fine allo stesso strapotere che pensavano di avere le società petrolifere americane che si pensavano sopra gli interessi strategici degli Stati Uniti la gestazione antitrust li portò letteralmente sulla terra potrebbe succedere di nuovo ne sono talmente consapevoli che se voi andate a vedere i dati di lobbying lobbying ovviamente la spesa e il lobbying che si fa al congresso cioè quanto le società spendono per convincere il congresso cioè il Parlamento americano delle loro istanze vedrete che la Silicon Valley spende il doppio di Wall Street che da sempre o perlomeno è sempre stato il segmento economico che più ha speso il lobbying nella storia degli Stati Uniti la Silicon Valley spende il doppio proprio perché è consapevole di questa dipendenza nei confronti del potere politico americano sono così onnipotenti perché spendono così tanto per pagare e convincere i parlamentari della loro causa della loro versione non si sa essenzialmente ultimissimo il rapporto con la Cina di cui immagino parlerà anche Niccolò adesso subito dopo di me che diceva al centro non solo il nostro numero dell'interpretazione egemonica che bisogna avere della rete per capire di che cosa si tratta oggi c'è il tentativo di alcune di queste società di provare di fare degli scatti in questo senso cioè di accedere ad esempio al mercato cinese accettando nelle limitazioni cioè la censura imposta dal governo cinese piuttosto che la consegna almeno parziale del loro server sul territorio nazionale cinese il nome del business peraltro già è successo che un evento di questo tipo sebbene diverso si sia risolto molto male per Facebook ad esempio avrete seguito forse la storia di Cambridge Analytica per cui è stata studiata in Italia per sciocchezze come quello che qui si chiama Russia Gate quasi fosse una cosa seria ma l'aspetto serio della vicenda era invece che Facebook aveva messo il business sopra l'interesse strategico cioè aveva venduto dati ad una società che poi li aveva rivenduti almeno questo è ciò che viene raccontato alla Russia e questo non si può fare al punto che avrete visto Mark Zuckerberg si è recato con il cappello in mano al congresso americano ed è stato preso a male parole dai parlamentari proprio per questa ragione sulla Cina tutto sommato sta succedendo lo stesso sebbene in maniera diversa soprattutto Facebook e Google provano ad entrare nel mercato cinese provano a convincere il governo americano che questo sia funzionale agli stessi Stati Uniti una delle frasi più abusate di Eric Schmidt presa sul serio quando una frase propagandistica è entro il 2028 avremo diversi internet soprattutto un americano uno cinese cosa come ovviamente non crede nemmeno Schmidt ma che qual è il senso in questo momento Google sta dicendo al governo americano fidatevi di noi lasciateci accedere alla Cina perché se noi non accediamo al mercato cinese anche accettando alcuni compromessi la Cina si scherma definitivamente si fa un suo internet questo è il messaggio fondamentale geopolitico da comprendere nella frase di Schmidt gli apparati americani non sono convintissimi è in atto una vera e propria lotta soprattutto tra Facebook Google e gli apparati si intende la CIA dipartimento di Stato Pentagono e così via che determinerà e concludo poi il futuro di quella carta che abbiamo visto che riguarda la globalizzazione in quanto tale ma scendendo la carta immaginata sulla globalizzazione di internet cioè sull'impero americano applicato al cibernetico che sarà comunque deciso dalla volontà strategica militare e politica degli Stati Uniti a cui dovranno in qualche maniera spesso anche riottose e dolorosa conformarsi quelle che noi immaginiamo essere multinazionali dell'hitec che vivono forse nell'iperuranio invece Nick lo racconterà immagino tra la California e lo stato di Washington grazie a tutti grazie Dario come vedete attraverso un esame di una struttura apparentemente virtuale si possono fare delle analisi delle considerazioni geopolitiche molto concrete Niccolò Locatelli si è occupato di fake news e vorrei che ci spiegasse qual è la sua tesi buonasera grazie ancora al mercato centrale e a voi per essere qui sì io nel numero mi sono occupato essenzialmente di una cosa che non esiste cioè le fake news perché dizionario alla mano fake news vuol dire notizia falsa la notizia è qualcosa di relativo a un fatto il fatto è qualcosa che è accaduto falsa è qualcosa che non riguarda la realtà quindi una notizia falsa nel più poetico dei casi è uno simolo nel più prosaico dei casi è una contraddizione in termini in ogni caso è qualcosa che avrebbe bisogno di una definizione più accurata disinformazione per esempio andrebbe benissimo ma il tema non sia abbastanza smart per il ventunesimo secolo probabilmente perché non è una parola di origine inglese però al di là della sterile polemica semantica il fatto che l'espressione fake news non abbia senso da un punto di vista lessicale non vuol dire che non ce l'abbia da un punto di vista geopolitico nel senso che il prisma delle fake news o se vogliamo lo spauracchio l'ossessione delle fake news ci torna utile per decrittare e osservare un'altra angolazione le principali battaglie geopolitiche degli Stati Uniti che come hanno già esposto Lucio Caracciolo e Dario Fabri nel mondo virtuale sono grossomodo le stesse di quelle del mondo materiale ovvero i principali rivali se non nemici sono la Russia e la Cina e poi c'è un altro livello più interno ovvero la battaglia fra gli apparati e il congresso da una parte e il presidente Trump dall'altra e la battaglia di tutti questi tre per diversi motivi contro la Silicon Valley per riflettere comunque sull'importanza delle fake news è il caso di fare un passo indietro cioè di tornare alle elezioni presidenziali statunitensi del 2016 quelle che tutti davano per scontato avrebbe facilmente vinto Hillary Clinton la sera stessa dell'8 novembre 2016 il New York Times diceva che Hillary Clinton aveva l'85% di possibilità di vincere non è andata così Hillary Clinton poi elabora il lutto della sconfitta individua due cause la prima è il comportamento dell'allora direttore dell'FBI Comey e la seconda è quello che lei definisce un attentato russo alla democrazia statunitense un attentato che ha avuto varie diramazioni c'è stato l'attacco fallito ai server elettorali c'è stata l'intrusione riuscita ai server del partito democratico con conseguente rilascio delle mail attraverso Wikileaks il canale di Giuliana Assange sulla cui neutralità ormai è doveroso non solo dubitare ma essere certi che non ci sia e poi appunto ci sarebbero state queste cosiddette fake news quindi la disinformazione allora per sgombrare il campo dagli equivoci naturalmente c'è stato un tentativo russo di influire sull'esito delle presidenziali statunitensi e da un punto di vista geopolitico è ineccepibile quello che ha tentato di fare la Russia di Putin stiamo parlando del paese più ampio al mondo che oggi però ha un'economia che è grosso modo quella dell'Italia quindi non all'altezza della sua storia non all'altezza delle sue dimensioni di un paese abituato a pensarsi impero in virtù naturalmente della sua storia che però ha perso ultimamente non solo il rango di superpotenza se vogliamo dalla caduta dell'Unione Sovietica ma è stata isolata almeno nell'ultimo lustro e spinta verso la Cina dall'atteggiamento statunitense e dall'atteggiamento che gli Stati Uniti hanno imposto ai cosiddetti alleati occidentali cioè che saremmo noi attraverso le sanzioni prima per l'annessione russa della Crimea e poi per la guerra in Ucraina quindi chiaramente nel 2016 dovendo puntare su un cavallo Putin giustamente punta sul candidato non solo meno russofobo perché poi Trump in realtà aveva conosciuto Putin ma non è che fosse proprio un amico della Russia però era non solo meno russofobo di Hillary Clinton che in quanto già tra l'altro parte della precedente amministrazione Obama avrebbe garantito una certa continuità ma anche meno esperto perché Trump ovviamente nel 2016 non aveva alcuna esperienza in politica quindi era ritenuto più manovrabile al di là poi dell'importanza che ha la Casa Bianca all'interno del potere statunitense su cui si è soffermato in precedenza Dario quindi l'obiettivo tattico aveva senso diciamo ed è stato raggiunto c'era poi anche un obiettivo strategico che è quello se vogliamo più allarmante diciamo dal punto di vista statunitense e quello su cui è più interessante riflettere quando si parla di fake news che era quello di mettere in discussione di generare sfiducia non soltanto nel processo elettorale statunitense ma proprio nell'ordine liberal democratico guidato dagli Stati Uniti un ordine fondato sul binomio democrazia e libero mercato questo attacco all'ordine liberal democratico si è fondato sullo sfruttamento di alcune linee di faglia preesistenti nella società statunitense quindi il genere l'orientamento sessuale la religione l'etnia la classe sociale sono tutte fratture tutte crepe del sogno americano già presenti negli Stati Uniti che la Russia ha soltanto cercato di sfruttare da un punto di vista quantitativo dico due dati così ci togliamo subito il problema quantitativo e poi torniamo a una riflessione qualitativa che è un po' più stimolante in base a quello che hanno rilasciato i social network in base alle indagini che sono in corso su tutto appunto il tentativo russo di influire sulle presidenziali del 2016 nelle dieci settimane precedenti al voto c'è stato un milione di tweet prodotti dalla Internet Research Agency la cosiddetta fabbrica dei troll russi un organismo appunto sotto il controllo più o meno diretto del Cremlino il numero sembra esorbitante un milione di tweet però in realtà non lo è perché in quelle stesse dieci settimane il totale di tweet su argomenti elettorali è stato pari a 100 milioni quindi stiamo parlando dell'un per cento del dibattito elettorale che è stato se vogliamo inquinato dalla disinformazione russa l'un per cento è praticamente un errore statistico è impossibile pensare che l'un per cento abbia avuto alcun valore per quanto riguarda Twitter questo per quanto riguarda Facebook che è uno e l'altro principale gli imputati sono essenzialmente tre sono Twitter Facebook quindi il mondo dei social media e dei social network e poi Google in quanto principale motore di ricerca e quindi appunto i motori di ricerca e in generale l'informazione online per quanto riguarda Facebook dicevo lo stesso social network fondato da Zuckerberg parla di 126 milioni di utenti unici esposti quasi fosse un virus a post scritti da Made in Russia diciamo così anche qui la cifra sembra esorbitante 126 milioni però innanzitutto Facebook ha un numero di utenti medi mensili pari a 2 miliardi e 230 milioni quindi il numero è già piccolo per le dimensioni di Facebook oltretutto se escludiamo i cittadini non statunitensi e i bot cioè gli operatori automatici russi che si seguono a vicenda in realtà arriviamo a un numero che è grossomodo pari alla somma degli elettori di Trump e di Clinton allora se tutti hanno visto questo messaggio è difficile pensare che sia stato decisivo abbia orientato il voto perché l'hanno visto praticamente tutti a meno di non voler sostenere che siano stati particolarmente colpiti gli elettori degli stati in cui si è decisa poi la corsa presidenziale del 2016 stati che si pensava fossero saldamente in mano democratica gli stati operai tra virgolette dove le paure dell'uomo bianco sono state meglio sfruttate in realtà da Trump al momento del voto di quanto abbia potuto fare Hillary Clinton allora ci ho detto quindi appurato che da un punto di vista dei dati non si può parlare di un fattore decisivo delle fake news come un fattore decisivo e della Russia come un fattore decisivo nelle elezioni del 2016 scusate rimane da chiarire come mai due anni dopo ne stiamo ancora parlando per farlo è importante concentrarsi più che sul mittente del messaggio e sul messaggio stesso sul destinatario e soprattutto sul messaggero il destinatario naturalmente è Trump allora c'è un interesse da parte degli apparati e del congresso a delegittimare Trump delegittimare nel senso che vincolare la sua vittoria elettorale all'operato di quello che viene percepito storicamente come il villano dall'opinione pubblica statunitense la Russia sono almeno sette decenni che è il nemico preferito per citare una carta di Laura Canali è il nemico preferito degli Stati Uniti da sette decenni quindi vincolare la vittoria del presidente all'operato più o meno scuro della principale potenza nemica implica a delegittimarlo con l'obiettivo naturalmente di tenerlo sotto controllo di evitare le sue escursioni che per quanto riguarda la geopolitica sono preoccupanti dal punto di vista degli apparati non tanto e non solo per quanto riguarda un possibile avvicinamento alla Russia e alla persona di Putin nello specifico quanto per quanto magari lui sostiene riguardo alla presenza militare statunitense cioè Trump è contrario all'eccessiva presenza secondo lui presenza militare statunitense nel mondo che è invece uno dei pilastri dell'impero americano quindi appunto continuare a parlare delle fake news del ruolo della Russia nell'elezione di Trump serve a delegittimarlo per tenerlo sotto controllo il congresso condivide anche perché plasma l'impostazione geopolitica degli apparati è poi un movente più politico più strettamente politico c'è la consueta dialettica fra il potere esecutivo e il potere legislativo c'è un partito democratico che chiaramente non può né sostenere né difendere un presidente repubblicano e c'è un partito repubblicano che ha grossi problemi a considerare Trump come uno di loro cioè Trump è essenzialmente un outsider rispetto a quello che è l'establishment del partito repubblicano fino a pochi giorni fa il suo potenziale elettorale non era mai stato messo alla prova su scala nazionale quindi non c'era neanche motivo di ritenerlo necessario per garantirsi il controllo delle camere cosa che poi infatti è avvenuta solo parzialmente ed è invece conviene anche al partito repubblicano diciamo cercare di prendere un minimo le distanze da una persona così da un outsider di questo tipo c'è poi il discorso dell'informazione tradizionale quella che Trump quando non li chiama fake news li chiama mainstream media cioè stampa radio e televisione l'informazione appunto convenzionale lei si decisiva nelle elezioni del 2016 perché per motivi essenzialmente di affari cioè la campagna elettorale del 2016 sembrava una delle più scontate nella storia l'unico modo di suscitare un minimo di attenzione il che vuol dire copie vendute aumento dello share spazi pubblicitari venduti era puntare su l'unico personaggio che per la sua retorica divisiva per le sue prese di posizioni provocatorie per gli scandali stessi di cui si rendeva protagonista l'unico personaggio dicevo in grado di tenere un minimo vivo il dibattito quindi l'informazione convenzionale lei si è stata decisiva nell'elezione di Trump ne ha beneficiato tra l'altro perché anche dopo la vittoria di Trump c'è stato un aumento degli abbonamenti eccetera quindi sotto il profilo degli affari va benissimo però ha un altro nemico in questa vicenda nella vicenda delle fake news che sono appunto Google, Amazon, Facebook e Twitter in questo caso spesso si parla di GAFA l'acronimo con cui si racchiudono i giganti del web che sarebbe Google, Amazon, Facebook e Apple in questo caso Amazon la possiamo togliere inseriamo Twitter soprattutto è importante togliere Amazon anche alla luce della carta sulla Silicon Valley perché Amazon non a caso non nasce nella Silicon Valley nasce un po' più a nord nei soborghi di Seattle lo stato di Washington ora perché la fissazione sulla Silicon Valley sembra appunto una prerogativa nostra un po' limesiana in realtà è fondamentale comprendere per comprendere la Silicon Valley e il dibattito su internet comprendere l'importanza della Baia di San Francisco che ha un humus libertario appunto proprio nel suo DNA basti pensare che quello che noi qui conosciamo come il 68 è se vogliamo l'onda lunga di movimenti studenteschi e di protesta che si sono sviluppati fra il 64 e il 65 nell'università di Berkeley che è la migliore università pubblica del mondo e che sta a tre quarti d'ora di autobus da San Francisco quindi allora la Baia di San Francisco la Silicon Valley ha nel proprio DNA una certa resistenza all'autorità precostituita a integrarsi perfettamente nel sistema di potere geopolitico statunitense facciamo un confronto per esempio con Detroit la capitale dell'auto o Houston la capitale del petrolio o ovviamente Wall Street la capitale finanziaria ma persino con Hollywood la capitale del cinema del soft power e la città diciamo a cui noi guardiamo come se fosse un baluardo della resistenza a Trump in questo caso comunque di certi ideali propri del sogno americano bene nessuno di questi altri centri di potere economici ma non solo economici ha al suo interno e darebbe spazio al suo interno a un dibattito così ampio come quello che stanno avendo Google Apple e Facebook su lo sbarco in Cina per esempio o l'opportunità di collaborare con il pentagono per esempio Google adesso si è ritirata dal bando per realizzare il cloud del pentagono e probabilmente quel cloud lo farà non a caso lo farà Amazon che appunto non è della Silicon Valley che ha un altro DNA ha anche un altro tessuto essendo più presente nella logistica nella vita materiale trasportando beni ovviamente portando delle merci Amazon da sola negli Stati Uniti è il secondo datore di lavoro privato dopo Walmart ha più di 500.000 lavoratori soltanto negli Stati Uniti gran parte di questi sono colletti blu sono operai quindi sono persone anche non soltanto appartenenti all'elite delle coste cioè della California o della costa orientale sono persone magari dell'America centrale più in linea con un approccio che definiremmo conservatore e più in linea con gli interessi geopolitici statunitensi Facebook per capirci ha 25.000 lavoratori in totale quindi Amazon da sola ne ha più di 20 volte soltanto negli Stati Uniti quindi dicevo la particolarità della Silicon Valley è questa naturalmente non c'è un rapporto di rottura con Washington perché non ci potrebbe essere date le sproporzioni di potenza qui mi ricollego a quello che diceva Dario sulle presunte multinazionali mettiamola così quindi chiaramente nessuna azienda statunitense si può permettere di essere in aperta contrapposizione in aperta rottura con gli Stati Uniti con l'impostazione geopolita degli Stati Uniti però c'è un dibattito e c'è soprattutto un'adesione che non è ancora immediata automatica da parte di queste aziende cioè queste aziende non si sentono non apprezzano l'idea di sentirsi parte del sistema di politico statunitense a questo punto parlare del loro ruolo nella diffusione delle fake news quindi del loro ruolo di moltiplicatore della potenza russa per metterla così serve sempre agli apparati e al congresso come con Trump serve a tenerli sotto controllo agitando gli spauracchi anche questi li ha menzionati Dario lo spauracchio della privacy lo spauracchio di una legislazione antitrust per quanto riguarda l'antitrust due considerazioni la prima è naturalmente appunto c'è una certa ritrosia da parte dell'americano medio e quindi del suo parlamentare a regolamentare un settore economico soprattutto un settore economico che va bene Dario citava il caso del petrolio c'è una differenza con il petrolio che naturalmente il petrolio è una risorsa finita cioè si può continuare a estrarre ma a un certo punto finisce i dati invece sono una risorsa potenzialmente infinita quindi è un campo diverso quello del digitale rispetto a quello materiale non coincidono perfettamente dall'altra parte il discorso della legislazione antitrust chiama in causa l'altro spauracchio che poi è una delle principali arme difensive dei social media dei social network e dei motori di ricerca che è appunto la Cina cioè come come si era appuntato Mark Zuckerberg durante una delle ultime audizioni che ha fatto al congresso qui si era portato ovviamente uno schema e diceva se mi chiedono di perché non spacchetto Facebook quindi non rinuncio per esempio a Instagram o non rinuncio a Whatsapp io parlo della Cina come diceva Dario e come possiamo vedere in tutto questo numero l'idea è che c'è una certa concorrenza fra le rivalità nel mondo digitale e quelle nel mondo analogico o materiale quindi la Cina chiaramente non è una superpotenza a livello degli Stati Uniti ma è l'unica che può avere le risorse di qui a qualche decennio è l'unica che può avere le risorse economiche e di conoscenza per sfidare gli Stati Uniti anche nel campo dell'intelligenza artificiale dove tra l'altro i costi per arrivare a un certo livello di qualità sono molto inferiori rispetto ad altre attività appunto materiali si torna quindi anche lì forse allo spauracchio di Schmidt dell'ex amministratore delegato di essenzialmente due internet sotto questo punto di vista è interessante notare che così come per quanto riguarda la parte di hard power la Cina ha quelle debolezze che ha illustrato Dario essenzialmente l'incapacità di controllare i mari attraverso i quali passa il proprio commercio estero beh ne ha una debolezza abbastanza grande anche nel campo del soft power cioè essenzialmente non c'è un sogno cinese non c'è un modello cinese a cui le popolazioni potendo scegliere aspirino c'è al massimo della diffidenza nei confronti della Cina che naturalmente può essere favorita nei contesti dittatoriali più diffusi soprattutto in Orasia e con determinate sfumature anche in Africa dal fatto che l'adesione a un internet cinese o a un internet statunitense non verrebbe deciso dal popolo ma comunque c'è questa debolezza di soft power diciamo con cui la Cina deve fare i conti per chiudere un paragone che oggi può sembrare indelicato essendo il terzo anniversario delle stragi di Parigi però è un punto secondo me interessante per capire la questione delle fake news le fake news servono nel mondo digitale allo stesso scopo a cui nel mondo reale serve il terrorismo cioè al di là della barbarie ovviamente e delle stragi gli attentati terroristici sono anche serviti a giustificare una certa stretta e un certo intervento degli stati sui diritti che possono essere individuali possono essere civili possono essere politici bene lo spauracchio delle fake news sta servendo esattamente allo stesso scopo qui senza voler dare una valutazione valoriale però da un punto di vista geopolitico gli stati quindi le potenze fondanti del mondo approfittano dello spauracchio delle fake news per cercare di entrare e di asserire il loro dominio sulle aziende e di oggi la notizia che Macron quindi la Francia che è uno dei paesi che è destinato se non si sveglia a essere un cliente dell'internet americano come tutta l'Europa del resto bene Macron ha proposto di mandare dei controllori dentro Facebook per controllare che non si diffonde il cosiddetto hate speech quindi le calunnie l'incitamento all'odio eccetera è naturalmente molto difficile che ci riesca molto difficile che Facebook gli apra le porte ed è un modello che eventualmente è chiaramente irripetibile non verrebbe mai accettato negli Stati Uniti però è indice di una tendenza cioè approfittare di un problema che è molto minore di quanto sembra così come il terrorismo ha fatto molto meno vittime di quanto si possa pensare soprattutto in occidente per riaffermare la propria sovranità e combattere una battaglia geopolitica grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti